La figlia al padre, papà, c'è un'importantissima novità, mi sposo, ho conosciuto un ragazzo australiano straordinario, come ragazzo australiano? Ma quando ci sei stata in Australia? No, no, non sono mai stata in Australia, però ci siamo conosciuti in un sito online, dopodiché ci siamo scambiati l'amicizia su Facebook, abbiamo chattato per due mesi su Messenger, poi lui si è dichiarato su WhatsApp e adesso sono tre mesi che ci sentiamo su FaceTime. Ah, ho capito, e vabbè, sposatevi, ditele tesi su Messenger, comprate due figli su subito, pagateli coppa ai pollo e poi quando avete rotto le scatole ti rivieni tutto su eBay. Il marito si sveglia alle 5 e mezza di mattina per andare a fare footing, allora si prepara tutto, una mezz'ora di preparazione buona, a un certo punto esce di casa e c'è un acquazzone tremendo, quindi sta lì che riflette, vado, non vado, vado, non vado, alla fine insomma decide di non andare, quindi torna indietro e si arriva a infilare nel letto con la moglie, allora gli dice cara mamma mia, fuori c'è un acquazzone tremendo e la moglie pensa che quel cretino di mio marito è andato pure a fare footing. È Natale, sto carabiniere porta la sua famiglia in settimana bianca, quindi arrivano in questo grande albergo di Cortina, stanno nella hall per fare l'accoglienza alla reception e arriva il direttore che gli dice benvenuti nel nostro albergo signori, allora vi ricordo che la colazione è dalle 8 di mattina fino alle 11, il coffee break della mattina dalle 11 fino a mezzogiorno, il pranzo da mezzogiorno fino alle 3, il coffee break del pomeriggio dalle 3 alle 6, l'aperitivo dalle 6 alle 7 e mezza e la cena dalle 7 e mezza alle 21 e 30. E sto carabiniere, ecco lo sapevo, siamo venuti pesci a manco 5 minuti ci sono rimasti. Due cari amici stanno avendo un accorato e sentito dialogo intimo, allora uno dice all'altro, ah Gino, ma che hai fatto? Ma perché sei così triste? E Gino, a Fernano non puoi capire che mi è successo. Oddio, che ti è successo Gine? Pensa che nel periodo in cui stavo a lavorare in trasferta a Milano, mia moglie faceva venire uno a casa. Oddio mio Gine, mamma mia quanto mi dispiace, però sai che c'è G? Ci siamo passati un po' tutti e Gino, ma che nel tradimento? E l'altro, no no, a casa da tua moglie.